benvenuti nella guida su springer ebook collection della biblioteca di ateneo dell'università di milano bicocca come prima cosa vedremo come si presenta la piattaforma springer quindi vedremo le modalità di ricerca i filtri che possiamo applicare per fare ricerche più specifiche infine analizzeremo come vengono presentati i risultati e come poter accedere al full text iniziamo vedendo la piattaforma springer gli ebook della springer ebook collection hanno diversi contenuti ma la medesima grafica e le stesse funzionalità di ricerca e consultazione abbiamo ebook springer in diverse aree medicina chimica fisica matematica eccetera tra le varie risorse troviamo ad esempio springer ebook collection in mathematics excel statistics per accedervi scorro la pagina e seleziono accesso online vai alla banca dati eccoci alla home page vediamo ora le modalità di ricerca e i filtri che possiamo applicare in alto c'è il campo search dove possiamo cercare per parola chiave cerchiamo ad esempio il metodo montecarlo nella colonna di sinistra possiamo aggiungere dei filtri ad esempio possiamo limitare la ricerca alla statistica basta selezionare statistics i risultati così sono diventati 20 analizziamo come vengono presentati i risultati e come accedere al full text clicco sul primo risultato posso scaricare integralmente l'ebook cliccando semplicemente su download book in alcuni libri potrai trovare la doppia opzione download pdf o download ebub seleziono quindi download book si è aperto il pdf integrale 382 pagine torno indietro in alternativa posso scaricare il singolo capitolo cliccando su download pdf come vedete non ci sono DRM con l'ebook springer quindi potete scaricare tutto quello che volete senza limitazioni naturalmente nei limiti delle leggi del diritto d'autore